Alessandro Basciano e Sofì Codegoni sono al centro del gossip. Il presunto arresto del DJ ha fatto scalpore. Secondo Dillinger News, la polizia di Mosca avrebbe arrestato Basciano per stalking e minacce nei confronti di Codegoni. Pare che il motivo sia legato al fatto che Basciano avrebbe picchiato Mattia Ferrari, amico di Sofì, dopo averla vista con lui. Tuttavia, la notizia dell'arresto è stata smentita da una fonte vicina al diretto interessato. Basciano ha chiarito su Instagram che si tratta di una fake news diffusa da Fabrizio Corona. Il DJ non è stato arrestato ma solo interrogato per la distruzione dell'auto di Ferrari. Alessandro ha espresso la sua indignazione per la situazione e ha sottolineato che non è vero che lui e Sofì si stiano riavvicinando. La coppia nata nel Grande Fratello ha vissuto alti e bassi. Dopo la nascita della figlia Celine, hanno deciso di separarsi. Tuttavia, i fan sono curiosi di sapere se il legame tra Basciano e Codegoni sia davvero finito. Nonostante le apparenze, c'è chi sostiene che i due possano ancora essere insieme, in segreto. La storia tra Alessandro Basciano e Sofì Codegoni continua a tenere banco e ad alimentare le chiacchiere del pubblico italiano. Resta da vedere se questa separazione sia definitiva o se ci siano ancora aspetti.